Ben tornati in questo nuovo video, oggi ho deciso di portarvi questo video di un gioco che si chiama Pixel Gun 3D, è un bel gioco a me e a mio fratello piace un sacco Io sono ancora scarsissimo perché sono stato livello 8, ho visto gente che stava a livello 31 mi pare e adesso spero che vi piaccia questo video e intanto mi apro sta roba qua, speriamo di beccare l'arma, un'arma potente, eh no quelle granate, vabbè le granate sono buone, mi piacciono a me, in modo sicuro per uccidere gente Allora io adesso vi farò vedere un po' le mie armi, ho questa qua, ho questa qua, il fucile a pompa, il mitra e quest'altro qua invece più potente degli altri, cioè mi piace molto come arma Rispetto a questo, in un colpo in testa uccidi l'avversario, mentre questo qua è un po' schifoso e buono ad esempio nelle mappe un po' più strette E io ho questa armatura qua che mi dà gli squidi aggiuntivi, adesso non faccio un deathmatch, faccio un undergames diciamo In questa qua che è la mia mappa preferita perché gioco solo in questa Aspettiamo che sia, eh di fatti guardate i livelli 22, 18, 17, 13 Quando ci sono questi livelli qua mi ammazzano subito perché è parecchio difficile resistere 10 minuti con 5 persone Oh mi sparano, vedete, sono stronzi questi Vabbè raga cambiamo mappa, cioè cambiamo il gioco, cioè cambiamo Località, facciamo un team fight Aspettiamo che si carichi Battle now Dan nuovo questo caricamento Questo qua che è il mio preferito Adesso vi farò vedere l'efficacia del lancio artigli Se si carica ovviamente Ecco qua, guardate siamo già 5 a 2 perché io Ecco guardate, guardate Stop Oh che culo questo Ho trovato il jet, no non l'ho neanche preso Guardate raga Pam, due colpi è morto Io ho trovato tre granate Si vedono qua le granate Ce ne ho quattro adesso perché Ho trovato Una specie di trucco diciamo Che ogni volta che gioco Ho una granata aggiuntiva E se ne ho zero Ho sempre una granata in più rispetto a Quando Non lo stavo usando E guardate Guardate Quelli Mi hanno ucciso perché Ho voluto farmi uccidere Scusate se non parlo molto È che questo gioco mi piace tanto E a volte perdo le parole Oh il jetpack Andiamo a fare il bombardamento Guardate Ho ancora 30 secondi Di Di jetpack Però vabbè Ora non riesco neanche a fare una kill Cioè Ho coppato un tipo Adesso non ce la faccio più Vado a fare il camper Così vi faccio vedere La potenza di questo cecchino Eccolo là Eccoti qua Eccoti Beccato Volevi eh Ecco l'utilità delle granate Ecco vedete Questo qua Mi ha rotto Qualcosa che non si può nominare Nel video Quanto brucia 21-11 E adesso arrivo anch'io E ti sfascio anche la torretta Oddio Vabbè la torretta Cioè è difficile da sfasciare Però io ci provo Io ci provo C'era questo qua Il Dremling What the fuck Guarda sti Dremling Abbiamo anche vinto Più 13 coppie Figurti Non è niente Con gli undergames O con gli undergames Mi ho perso tipo 40 Vabbè Però Facciamo Voglio fare un deathmatch Su re della collina Scusate se sentite dei rumori Però Qua ci gola tutto Allora Vediamo Qua Mi pare Di avere già giocato Però Se trovo il tipo Col prototipo Sono fregato Però Vado Ecco Guardate Io ti spacco Ok L'assist Vabbè Più 5 Perché ho fatto L'assist Non l'ho preso Ho tirato La graneta L'ho tirata Troppo presto No Avevo anche Il jetpack Ma crepa Oh bravo Che sei crepato Vengo a prenderti Pazzo anche te E sono morto Vabbè Quello col prototipo È qualcosa Cioè Il prototipo È qualcosa di no forte Di più ancora Guardate Mi ammazza Solanto quel tipo Col prototipo Perché cioè Io mi ritengo Una persona Anche Abbastanza brava A giocare Però Quando trovo Quelli col prototipo Proprio Oh L'armatura Ah Eccomi qua Eccoti Bello Preparati A implodere Dai Non riesco neanche C'è Cazzo Ho un'armatura Che spacca i deretani Adesso Voglio provare Un attimo A coppare Qualcuno Con Ok dimmi Ok Il jetpack Buono Dai Vola Bello Ma quanto sono Quasi dieci minuti Ancora morto Cioè Arriverò Ultimo Cioè Continua Crepa Non so neanche Perché Non è che Sia scarso Io È che Buono Questi Col prototipo Sono troppo Forti Adesso L'avrò Ottavo Quinto Credo Ok Stranamente Sono il primo Non vedo Nessuno Ah Volevi Guarda Che fascia Non ce l'aspettavo Amica Ok Ne ho ucciso Uno Più Trenta I Got A jetpack Usb C'è I Have Got A jetpack Prototipo Vabbè Prototipo Aspetta che lo becco Da dietro Appena posso Me lo compro Anche il prototipo Ah Beccato Come hai fatto ad uccidermi Vabbè Vabbè E' strano Questo gioco Oh A jetpack Double kill Oh The double kill I have got A fatta Double kill Voglio farmi la revenge Minimi Porca voglia Accoppala 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 Sono morto Dai però Aspetta Sono a 11 minuti Poi Mi sto dimenticando Di parlare Oddio Devo fargli Devo ammazzare Qualcuno No Quello là C'è la spada Quello là Fa male Oh Double kill Come ho fatto Ad uccidermi Vabbè Vabbè Oh Che figo C'è la spada Laser Questo Oh Gli sto facendo Un liscio Pazzesco Oh Double kill Oh Mio Dio Dio You have got A spada Laser Oh My FG Morca Vabbè Da qua sopra Gli sfascio Tutti Ancora La assist Che palle Che palle Bcs Double kill Secondo Dai cavolo Secondo Voglio un po' di soldi Però adesso Adesso Ho vabbè Un coins Cioè Dai Come se Mi sputassero Vabbè Raga Per questo video È tutto Fatemi sapere Se volete Altri video Di questo genere Anche Ad esempio Su clash royale E niente Ciao ragazzi E ci vediamo In un prossimo Video